Come fa Riccardo Sgamarcio, Luca Marinelli o il giovane attore di vent'anni che ancora non conosciamo avere un'opportunità fuori se il ruolo da italiano che dovrebbe avere la libertà di girare nel suo paese poi anche lì in inglese e a lei, va bene? Come fa quel ragazzo lì, quella faccia lì a riuscire ad andare fuori dai confini se poi invece dobbiamo prendere il ventenne americano già noto perché così lo vendono?